Mi chiamo Jérôme Bovì Gouré e sono il Presidente dell'Associazione Pan-Africando. Noi abbiamo un sogno che per quattro giorni ogni anno nella nostra città, Torino, ci si senta tutti un'unica famiglia, africani, italiani e appartenenti a ogni etnia. Questo è il Festival Pan-Africano, un sogno. È il frutto dell'impegno della diaspora africana, cittadina torinese da tanti anni. È il Festival di Torino per la pace. È l'incontro della comunità africana presente sul territorio nazionale. È la curiosità di scoprire culture e usanze che arrivano da lontano e oggi vivono la mia stessa città. Il Festival Pan-Africano è un assaggio del mondo che tutti vorremmo per i nostri figli, fatto di fratellanza e umanità. È un'occasione per far sentire tutti i bambini cittadini del mondo. Il Festival Pan-Africano è un sogno che può essere realizzato con una scrupolosa progettazione. Inizialmente, nel 2014, il Festival era nato come festa delle comunità africane di Torino. L'idea è piaciuta talmente tanto che ad ogni edizione i paesi partecipanti ed il pubblico sono cresciuti. Oggi, giunti alla quarta edizione, ci sentiamo pronti per fare il salto di qualità e aprirci a tutta la città, per far conoscere le culture delle diascore e promuovere la fratellanza. Noi crediamo possibile di scoprire l'umanità attraverso gesti che appartengono ad ogni cultura, perché appartengono al genere umano, senza distinzione di colore, religione o etnia. Gesti come sorridere, collaborare, ballare, battere le mani al ritmo di musica. Vogliamo portare Africa a Torino, per farvela conoscere e per farvene comprendere le meraviglie. Venite al Festival Panafricano dal 25 al 28 maggio a Torino per riscuotere le vostre ricompense. Vi aspettiamo e noi vediamo l'ora di conoscerevi.